I carabinieri della compagnia di Augusta, operando in stretta collaborazione con i colleghi della stazione di Lentini, sono riusciti nel giro di poche ore a fare luce sull'omicidio di Roberto Raso di 38 anni, avvenuto poco dopo la mezzanotte scorsa in Vialisso e quindi nel cuore del centro storico di Lentini. L'autore del grave fatto di sangue sarebbe il giovane lentinesi Antonino Montalto, di 23 anni, assistito dall'avvocato Junio Celesti. Dall'attività investigativa sarebbe emerso che i due erano soli di litigare per continua richiesta di denaro da parte di Roberto Raso. Antonio Montalto quindi, dopo l'ennesima lide scoppiate in Vialisso, si sarebbe regato nella propria abitazione per prelevare un coltello con il quale avrebbe colpito il raso all'addome e al capo. Roberto Raso, sanguinante, è stato prontamente soccorso da alcuni passanti e trasportato al pronto soccorso dell'ospedale di Lentini dove i medici non sono riusciti ad evitare il decesso. Il presunto omicida quindi, dopo le formalità di rito, è stato associato alla casa circondariale di Capadonna. Grazie a tutti.